Buongiorno signori, allora è successa una cosa veramente veramente incresciosa e ve ne dovete vergognare profondamente perché voi che siete degli scalzacani, scalzacani falliti catatonici, ipotonici, ipotesi, stressati, quella roba lì avete fatto una cosa che non dovevate fare, adesso io sono un libro professionista non mi definisco imprenditore perché anche se ho fondato un SRL fondamentalmente ho soltanto un segretario ho soltanto un paio di cocci o soltanto cose così, non è tutto delegato, non me la sento di imprenditore sono un libro professionista che ha un SRL e quindi per me la cosa è diversa ma tanti di voi siete dipendenti e volete godere le ferie e voi avete fatto una cosa che a me non piace avete fatto cadere il 25 aprile di domenica ma voi avete diritto di fare il ponte di avere il 25 aprile di venerdì lo capite questa cosa? E non va bene che l'avete messo domenica signori perché poi lo sapete cosa succede? Succede che il primo maggio festa dei lavoratori è di sabato a voi sembra accettabile che avete perso due festività? A me no, adesso io non me le godo perché comunque posso decidere cosa fare e quanto fare, tendenzialmente lavoro tutti i giorni e tutto il giorno ma voi signori, voi state perdendo due festività e ho deciso che questo non è giusto non è giusto sa di giustizia sociale e di scloto di Goering e allora correre mi addio questa cosa non è tollerabile quindi faccio qualcosa io a costo di lanciarvi addosso le ossa dei morti lanciare le ossa dei morti contro un nemico come diceva giustamente il mio vate spirituale per la mentalità è tutto quindi Richard Benson, penso che sia chiaro allora signori, ecco il regalo che vi faccio, ho pensato vi hanno inculato due giornate? allora facciamo un bel regalino tanti di voi magari non hanno cominciato il mio corso avanzato perché pensano è cavolo, 1000 euro, il doppio corso è un po' costoso, non so se poi mi piace allora fammo così vi ricordate la mia classica formula del più uno? ne abbiamo parlato all'epoca del lancio del Black Friday 2020 il più uno è quando voi comprate un livello di mio prodotto io vi sblocco l'acquisto come se fosse il livello successivo quindi questa volta vi faccio una cosa simile poi nell'info box c'è un link da visitare in cui trovate tutte le informazioni e potete acquistare i corsi l'idea è questa fino a 3 maggio, fino a lunedì 3 maggio se avete tempo di pensarci, passate la fine settimana tornate al lavoro tristi, delusi, astiosi pieni di smegba sotto la cappella se siete donne sotto la cappella di vostro marito e fa schifo e cose così vi offro questo è un'offerta pensata per risparmiare partendo con lo studio per 500 euro che sarebbe il prezzo di un prodotto che adesso non c'è il prodotto del corso avanzato di scrittura privo dei bonus aggiuntivi che adesso io non vendo a 500 euro non c'è, non è proposto se andate sul mio sito non c'è di base io per quel prezzo da 500 euro vi do il corso avanzato di scrittura giusto con anche i bonus aggiuntivi che verranno prodotti a breve e sono in pratica le analisi cioè uno dei bonus aggiuntivi che avrà prodotto a breve poi potrebbe essere che tra sei mesi un anno ci siano altri ancora sarà l'analisi precisa entrando nel dettaglio del flusso informativo quindi molto tecnica molto didattica del primo capitolo di vari romanzi scritti in modo ideale secondo le tecniche insegnate del corso romanzi di autori pubblicati poi da me in Vapore Teppa faccio esempi ci sarà Sangue del mio sangue ci sarà sicuramente Penso alla mia vita con le blatte probabilmente ci sarà Fine dell'uomo ci sarà sicuramente non subito lo metterò tra qualche mese perché lo metto tra gli ultimi perché esce a breve quindi esce il 6 maggio quindi faccio la cosa un po' in ordine quella dell'anno dell'omuncolo di Francesco Turigon e magari altre nel tempo si aggiungeranno chi compra tipicamente quando sarà in vendita il corso in versione light a 500 euro non ce l'ha queste cose ma voi adesso pagando quella cifra del corso light potete avere il corso avanzato di scrittura con anche quelle cose appena usciranno o state risparmiando 200 euro non è male ecco poi chi paga invece 700 euro il prezzo normale del corso singolo di scrittura gli do anche il corso il corso di sceneggiatura quell'avanzato di sceneggiatura che tipicamente questa combo viene scontata ad appena 1000 euro io ve la do a 700 perché è sempre più uno il singolo il pagamento del singolo varia per il doppio sto facendo i prezzi sempre a pagamento unico cioè l'acquisto normale è le rate tipicamente due rate per il 500 che diventano io sconto un 10% sul pagamento unico 10-12% quindi due rate che siano da 280 euro 560 poi faccio lo sconto e diventa 500 euro se fate il pagamento unico il il corso unico da 700 che qui invece vi da accesso al doppio costa tipicamente terrate a 260 quindi 780 in totale io vi sconto 80 euro e diventa 700 ok abbastanza chiaro e voi mi direte ma se pago 1000 che cosa ottengo? se paghi 1000 ottieni 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 l'archivio dell'analisi l'archivio dell'analisi ovvero al momento attuale sono oltre 70 sono 75 ore sì 75 ore di esercitazioni fatte con i corsisti dove ci sono beh ci sono parecchi testi interessanti alcuni sono scritti male ma un male che comunque è più bello della media dei libri in libreria ok e altri sono testi invece scritti molto buoni alcuni a un livello così buono 9-4 credo 5 testi circa così buono che ho proposto credo siano 5 su 37 esercitazioni al momento attuale sto registrando in questo momento che è seconda metà di aprile se non mi viene in mente il giorno forse il 17 aprile non lo so comunque 5 di questi sono o 5 o 6 sono di persone che poi ho contattato privatamente dicendo sei molto bravo avevi piacere di seguirti gratuitamente con consulenze per aiutarti a diventare un autore a vapore te a patto che tu abbia un progetto idoneo per vapore te la mia collana editoriale di fantasy e fantascienza che pubblico per Hackeron Books vi faccio vedere dei libri che magari non l'avete mai vista peraltro prima vi ho parlato di un paio di questi titoli eccoli qua scusate li prendo subito la faccio vedere anche questa allora questo non l'ho citato prima Stargate di Giulia Besa quella autrice che ho detto prima pubblicata da pubblicata da Enaudi Spalding e Canfer a breve uscirà con Rizzoli di Agostini pubblicato con Enaudi l'ho detto si Giunti pubblicato con Giunti eccetera tipicamente non fa fantasy che ha fatto un fantasy per noi molto bello spero che a breve esca il secondo volume non si sa quando perché il covid ha incasinato tutto tutti i progetti sangue del mio sangue fantasy molto bello abbastanza grandino la grafica bellissima tutto molto belli i nostri cartace infatti con Hackeron Books la mia è la collana dei lit perché abbiamo il top del top dei corsisti a livello di preparazione a livello di scrittura immersiva infatti è per questo che li usiamo come esempi per il corso anche perché ha fatto solo il corso base se non volete comprare questo offertonale corso avanzato che sto facendo perlomeno compratevi questi libri e studiateli vi ho spiegato alla fine del corso base come fare se non potete se non potete che magari non avete soldi e comprare subito tutto ok comunque le lavi dell'analisi contengono queste robe qui esercitazioni molto fighe io per 1000 euro vedo un omaggio quindi il prezzo è il doppio corso che di solito non le include e queste analisi costano valgono costano un 500 euro io con solo 300 euro aggiuntive raggiungo è un altro sconto che si somma sconti su sconti su sconti state risparmiando alla fine un complessivamente un 500 euro più tutto il resto che risparmiate vi ha degli altri bonus delle lezioni aggiuntive su scrivere di più e con più felicità molto interessanti poi ecco su queste magari sarebbe carino parlare ve ne a parte vi faccio poi un video dedicato a parte ve ne parlo perché devo dire che non ne parlo mai abbastanza e invece tante persone mi hanno detto che gli hanno veramente cambiato la vita a me sembrano piccole cose perché io sono molto avanzato in questo settore neuroscienze psicologia psicologia per la produttività la felicità soprattutto la felicità importantissima che non vuol dire che siete obbligati a essere felici vuol dire cominciare come a capire come affrontare le tra virgolette tempeste della vita senza che i sentimenti negativi vi travolgano e vi blocchino ma imparare a viverli in un modo anche stimolante per produrle di più vi insegno come se voi fallite un obiettivo ricalibrare le cose e non giudicarvi come dei falliti solo perché avete fallito una cosa ma imparare ad accettarvi incondizionatamente poi non uso questo linguaggio in quelle lezioni lo userò in altre lezioni future più dettagliate gli altri corsi che ho in mente per aiutarvi a livello di supporto psicologico e voi vi dite ma è un supporto psicologico intendo ma non sei uno psicologo infatti non lo faccio in privato ve ne parlerò più avanti ma abbiamo uno scrittore che è psicologo clinico che sarà lo psicologo ufficiale dell'agenzia Duca voi vi vi ho dato il suo contatto se siete nel corso o magari anche se non lo siete e se voi volete parlare con una persona che scrive che sa i problemi degli scrittori che è abituata a trattare problemi di ansia di problemi di emozioni varie e aiutarti a ricostruire ricapire le cose ristrutturare uscire ai casini fondamentalmente capire come stare meglio e stare meglio in ambito cognitivo comportamentale in ambito act usa anche la schema therapy insomma è base al tipo di paziente su necessità che cosa ha quindi cose che mi piacciono molto lui è molto professionale molto bravo io vi dico poi se ne parlerà quando entriamo nei dettagli è l'unico psicologo sapendo più o meno come sono gli psicologi anche se ho avuto soltanto una buona esperienza da ragazzino ma sapendo le storie che mi raccontano tante persone andate dal psicologo che conosco io vedo questa persona e dico Federico Russo e dico io se avesse un problema andrei solo da lui poi lui magari mi direbbe no siamo amici ci conosciamo troppo non posso da quel punto gli direi garantiscimi una persona di assoluta fiducia che mi dici tu ma io di base vorrei lui non mi fiderei di nessun altro e ve lo dico senza problemi veramente quindi nel momento in cui è stato di trovare una persona che dia delle garanzie sui contenuti all'epoca queste lezioni sullo scrivere più che più felicità vengono da contenuti in buona parte venuti fuori da discussioni con lui ok qui faccio una garanzia e sui contenuti nuovi a tema mentalità diciamo a grandi linee mentalità produttività saranno tutte cose su cui prima chiederò un'opinione a lui per dirgli senti ho detto qualcosa che per quanto io abbia studiato per te che sei psicologo clinico che lavori con le persone da anni c'è una cosa che è una cazzata che non va bene ecco io nel dubbio farò un po' questo approccio perché voglio comunque una certa garanzia che anche se sto facendo divulgazione non sto facendo lo psicologo ma avere uno psicologo abilitato e tutto scritto all'albo che dice si va bene questa divulgazione non dà problemi esatto e poi non potendo farvi supporto io perché posso farvi supporto sulla teoria sulla scrittura ma se voi avete un problema che magari può sfociare una domanda personale c'è lui da qui andare chiaro? ho pensato a tutto signori ok? perché capisco quanto il problema di scrittura spesso non sono di scrittura ma psicologica ne ho parlato in un vecchio video dedicato all'ansia della scrittura ok? un video penso due o tre settimane fa adesso non sope dirvi quindi cosa è così signori ok? offerta molto bella approfittatene è un'offerta molto buona che ho pensato per darvi un accesso anche low cost appena 500 euro pagamento unico al corso singolo di scrittura e comunque già con quel corso singolo comunque voi potete non pensate l'archivio delle analisi non le avete ma voi potete ogni volta che ci sono le lab di analisi e ultimi mesi penso ultimi 4-5 mesi non ho saltato un appuntamento ogni settimana c'erano poi probabilmente scenderanno a 3 su 4 2 su 4 però non so dirvi per come va adesso vi dico che è una volta la settimana ok? e voi potete accedere e vederle e se non potete accedere sul momento tipo che so le facciamo sabato pomeriggio e voi nel sabato pomeriggio non ci siete oppure le spostiamo a breve le spostiamo a martedì sera e voi o le già ho già spostate non lo so e martedì sera voi non potete perché magari avete basket vabbè ma rimangono le registrazioni per almeno 24 ore tipicamente rimangono un 30-36 ore diciamo 24 ore ok? quindi voi se avete entro il giorno dopo potete recuperarla già l'avete fatta sì poi non potete rivederle all'infinito signori perché per quello vi serve l'archivio delle analisi però non pensate che avere il singolo corso di scrittura sia chissà quanto svantaggioso avete un bel risparmio e ovviamente secondo me è meglio se comprate il doppio corso quindi pagate 700 euro e ottenete l'equivalente del doppio corso da 1000 fuori offerta ok? prendete quello vi consiglio così avete anche le parti di sceneggiatura che vi insegno anche molto a ragionare sul personaggio la sua posta in gioco non è banale non è una cazzata la posta in gioco signori secondo me è il fulcro del personaggio la posta in gioco io vi insegno come dalla posta in gioco potete capire meglio le sommature del difetto fatale e una volta capite meglio queste potete rinquadrare meglio la posta in gioco stessa ok? assolutamente secondo me sono vitali è per questo che le sto mantenendo con un fortissimo sconto prima di farvi accedere a quel secondo corso e fare un doppio corso di scrittura creativa e sceneggiatura intesa come progettazione delle storie poi ovviamente se potete prendere il 1000 e avere l'archive analisi è meglio non è che vi dico ok? e poi vi aggiungo vabbè ve lo aggiungo dai facciamo così ve lo aggiungo potete poi se volete sì se volete andate sul checkout del corso del corso da 1000 euro che include l'archivo dell'analisi e potete aggiungendo 350 euro invece di 500 aggiuntivi solo 350 vi sconto 150 euro potete avere direttamente il resto degli archivi e diventare corsisti premium veri con i futuri bonus ok? in totale avete pagato 1350 euro per una cosa che ne varrebbe 2000 e che tipicamente tengo in offerta a 1700 quindi comunque ragionate che avete risparmiato rispetto già alle offerte normali quelle che trovate tutti i giorni al di fuori di questi momenti molto speciali di offerte così già scontatissime che sarebbero 1700 euro come combo per voi diventa 1350 anzi facciamo 1300 dai vi tolgo altri 50 euro e va a fare 1300 va bene? più generoso di così veramente non ce la faccio 1300 ok? ci siamo e vi aggiungo anche un'altra cosa però adesso comincia a diventare troppo però soltanto se aggiungete anche quelle robe lì se aggiungete anche gli altri archivi diventati premium vi do una consulenza ok? una consulenza con me beh una consulenza con me sto a perdere una consulenza con il mio coach ufficiale no una consulenza con me valore 300 euro una sola però siamo chiari anche se si può dare il mondo ecco magari a Natale quindi tra 8 mesi divento buono e vi do più bonus ma non per sto prezzo vi do più bonus per un pacchetto da 1700 12.000 euro però forse a Natale o forse a Natale vi do di meno per questo prezzo perché a un certo punto nei prossimi mesi i prezzi aumenteranno non so quando ma non è distante quel momento ok? adesso ho schizzato perché ho visto che non c'era il 25 aprile il primo maggio era sabato tra una cosa e l'altro ho detto qui questa cosa mi fa girare i coglioni perché so quanto è importante per chi lavora avere questi questi piccoli momenti del dire cazzo non è solo la domenica e il sabato che festa che posso riposarmi fare un ponte fare un qualcosa poi c'è tutte queste cose che insomma non va bene ho sbroccato ho detto ritiriamo fuori dal sepolcro l'offerta di 500 euro che diventa l'equivalente di 700 e facciamo la stessa cosa con le altre so che non dovrei farlo so che dovrei stizzare i più soldi che posso però ci sono dei momenti in cui divento semplicemente generoso è così perché sono un coniglione tenerone che si travesse da duca con la camicia huaiana e il frustino ok allora questa offerta va da soltanto fino a lunedì 3 maggio poi tutto torna normale altre offerte pubbliche per un bel po' non ne vedrete e la prossima che vedrete penso per il compagno del corso a fine giugno sarà molto più costosa di questa col cavolo che diventa un'offerta entry level penso che probabilmente la cosa più economica costerà 1000 euro scordate 500 scordate 700 probabilmente la cosa più economica sarà 1000 e la cosa più costosa probabilmente sarà 2000 euro ok non so dirvi ma penso di sì quindi se adesso vi interessa un'offerta che costa poco approfittatene adesso o non so quando sarà può essere che sarà per il black friday fine novembre 2021 o può essere che sarà per natale probabilmente sarà per natale chiaro poi non si sa ma comunque un casino di mesi che non avete perché sono mesi persi la vostra vita in cui potreste scrivere quindi signori approfittate di questa offerta prendete sul serio quello che vi ho detto e diventate il miglior scrittore che potete diventare ok ok Grazie a tutti.